16 anni fa crollava la discarica alla torre a Poggio Cono di Teramo. Allora fiumi di percolato maleodorante invasero la zona circostante che ha dovuto convivere con questa ferita ambientale fino ad oggi. Oggi però è stato inaugurato il cantiere per la chiusura definitiva della discarica grazie ad un finanziamento del master plan di 2 milioni 700 mila euro. Sette mesi e tutto, assicurano i tecnici comunali, sarà ritombato e trasformato in un giardino. Il percorso è stato molto complesso, molto lungo perché il pacchetto tradizionale risale al decreto legislativo del 2003 che prevedeva un pacchetto molto pesante tra terra, argilla e bentonite. Noi abbiamo lottato veramente sin da subito, sin da quando abbiamo disposto il progetto preliminare con la regione e l'arta per ottenere un pacchetto alternativo, un pacchetto alternativo che fosse più leggero, che ci ha permesso di mettere un pacchetto sempre con le stesse caratteristiche e che perciò garantisce la tenuta della stabilità della discarica. Soddisfatto il sindaco di Teramo, Gian Guido D'Alberto, la gestione del percolato della discarica alla torre ha gravato sul comune per circa un milione di euro l'anno. Con la chiusura definitiva ci sarà un grande risparmio e la restituzione di una zona verde alla comunità. È un momento importante, chiudiamo una ferita. Una ferita, una ferita ambientale prevalentemente che riguarda la comunità di Poggio San Vittorino, Poggio Cono, ma riguarda tutta la città. È anche un problema di carattere economico finanziario. Per tanti anni i cittadini terramani sono stati costretti a pagare costi enormi per lo smaltimento del percolato. Si restituisce quindi dignità ambientale a quest'area, dobbiamo valorizzarla dopo la chiusura. Non è stato semplice perché la chiusura di questa discarica comporta delle difficoltà per la storia che ha avuto, ma la valorizzeremo molto sotto il profilo ambientale. Non era la zona ideale per fare la discarica, questa era una zona in forte espansione e poi chiaramente man mano si è ridotta. L'unica cosa è che questa discarica dal crollo, devo dire la verità, lì è stata la sofferenza più grossa perché tra gli odori qui, specialmente queste case qui vicine, le zanzare d'estate era invivibile. L'importante è realizzare l'opera. Io quando sono arrivato in comune il 2009 è stato una delle mie battaglie che allora nel programma del sindaco Brucchi c'era il programma di questa chiusura, però c'era un ricorso in corso che tutti sapevano perché qualcuno voleva fare l'ambiamento e poi naturalmente si è archiviato e siamo arrivati al dunque che oggi grazie a questi fondi Masterpant siamo arrivati alla chiusura.